il contenuto di questa scatola ha attraversato secoli di storia e proprio per questo può sembrare misterioso ma in realtà contiene strumenti che nel passato erano utilissimi perché ti starei chiedendo ma per viaggiare per esempio ecco un notturlabio serve a sapere che ore sono di notte in che modo guardando l'allineamento della stella polare della costellazione dell'orsa minore con le due stelle dub e merac nella costellazione dell'orsa maggiore una bussola indispensabile per orientarti e sapere sempre dove ti trovi un cannocchiale una canna vuota è un occhiale un tubo con due lenti combinate per vedere vicini e ingranditi gli oggetti lontani allora cosa stai aspettando adesso hai tutti gli strumenti utili per arrivare qui al museo galileo insieme potremo rivivere un'incredibile avventura nella storia della scienza grazie a tutti Grazie a tutti